Scusa, ma lo so che quella barracca l'hanno legata con dei fil di ferro? Sì, ma l'hanno legata con dei fil di ferro? ... ... ... ... Sì, quando c'è il progetto! Non è fatta, Nico? No! Fatta! Non è fatta! Non è fatta! Non è fatta! Non è fatta! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti